Buone notizie per l'edilizia scolastica pescarese. La Regione Abruzzo ha infatti stanziato un fondo straordinario di 666.000 euro per consentire alla provincia di Pescara di fronteggiare con maggiore serenità le procedure di presa in carico delle strutture che a partire da settembre prossimo andranno ad ospitare le 64 classi del liceo Marconi di via Marino da Caramanico. Soddisfatto il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. Sono delle risorse importantissime, per noi fondamentali perché comunque avevamo già delle trattative in corso dal mese di febbraio, però sapete benissimo che la pubblica amministrazione se non ha dei fondi disponibili non può stringere e chiudere nessun tipo di contratto. Oggi siamo nelle condizioni di poter fare questo. Presidente, è stato scongiurato il rischio di dover spostare il Marconi e i suoi studenti fuori dal comune di Pescara? Sì, è stato scongiurato, adesso fino a quando proprio non definiamo il tutto, è così, però abbiamo lavorato tantissimo con il preside, con la struttura del Marconi proprio per evitare e ridurre al minimo il disagio. Ovviamente diciamo un po' di disagio ci sarà, ma comunque rimarremo sulla città di Pescara, rimarranno i ragazzi perché abbiamo lavorato per il loro benessere scolastico e ridurre, come dicevo prima, al minimo il disagio. Questo è l'obiettivo e questo lo porteremo fino in fondo, questo obiettivo. Qual è adesso il cronoprogramma dopo l'arrivo di questi fondi? Allora il cronoprogramma, già siamo attivati, già abbiamo stretto i rapporti ovviamente con chi già aveva dato la disponibilità, stiamo gettando le basi per poter fare subito quegli adattamenti a quelle strutture che sono di piccole entità, diciamo di ampliamenti degli spazi necessari per le scuole e quindi già ci stiamo muovendo perché dobbiamo fare il possibile per essere pronti a settembre.